scusate prima c'era la batteria che si era scaricata fortunatamente avevo appena finito il video cioè avevo appena finito il trucco quindi diciamo che è andata bene allora adesso la sto caricando quindi speriamo bene niente allora volevo dire spero vi sia piaciuto questo trucco anche perchè è stato un tantino più diciamo più complicato degli altri ho usato più colori molta sfumatura non è stato per niente difficile come avete visto cioè è semplicissimo ho usato appunto tre tipi di verde più la sfumatura col nero nella matita sopra questo è un trucco diciamo per la sera perchè sto anche per uscire quindi l'ho usato lo uso per ora stasera mi dicono che è il migliore cioè è il trucco che mi sta meglio che sta meglio ai miei occhi spero sia così almeno poi non lo so vedete voi se avete qualche altro chiarimento qualche consiglio da darmi qualsiasi cosa non esitate a farlo scrivetelo in questo video o mandatemi un messaggio nel canale non lo so come volete allora spero vi sia piaciuto alla prossima un bacio a tutti buona serata e buon weekend ciao